A grande richiesta prepariamo insieme la pizza in teglia alta e soffice. Iniziamo. Farina in ciotola come sempre, aggiungiamo il lievito, il miele, lo zucchero o il malto. Iniziamo ad impastare aggiungendo acqua e latte. Naturalmente se non volete utilizzare il latte potete utilizzare solo acqua oppure utilizzare il latte che voi preferite. Aggiungete il sale, ancora latte e acqua e mescolate per farlo sciogliere. Ancora acqua e latte e mescolate ancora per raccogliere tutta la farina. Aggiungete l'olio. Naturalmente mescolate ancora. Coprite e lasciate riposare mezz'ora, un'ora. Dopo il riposo trasferite il composto come sempre sul piano di lavoro infarinato. Impastate velocemente realizzando delle pieghe di rinforzo. Vedrete che con pochissime pieghe l'impasto risulterà da subito liscio ed omogeneo. Vedete? Quindi pieghe e basta. Velocissime e avete realizzato il vostro impasto. A questo punto decidete voi se realizzare una sola pizza o due pizze. Io realizzerò due pizze. Quindi ho diviso l'impasto a metà, ho fatto delle pieghe, ho raccolto e ho pirlato l'impasto arrotondandolo. L'ho fatto con tutti e due i panetti. Così. Se invece realizzate una sola pizza, trasferite l'impasto nella ciotola e lasciateli evitare. Quindi adesso abbiamo realizzato i due panetti, li trasferiamo in due ciotole oleate. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo a lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione io non posso saperli perché dipenderanno dalla stagione, dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla quantità di lievito che avrete utilizzato. Quindi coprite e lasciate lievitare fino al raddoppio. Così. Una volta lievitato il nostro impasto, prendiamo il primo panetto. Lo trasferiamo sempre sul piano di lavoro infarinato. Io ho aggiunto della semola. E lo stendiamo delicatamente, iniziando dai bordi, per poi stendere il centro. Come vedete è semplicissimo. Prendete l'impasto stesso e lo trasferite in teglia. Io ho messo la carta a forno. Altrimenti potete utilizzare una teglia e aggiungere un filo d'olio. Quindi sistemate l'impasto sulla teglia. E lasciate lievitare per mezz'ora, un'ora, sempre a seconda della temperatura ambiente. Quando sarà lievitato, lo andiamo a condire. Quindi, salsa di pomodoro già condita con sale, pepe e olio. Distribuite bene su tutta la superficie. E infornate a 180 gradi, statico o ventilato, per 15 minuti, sulla parte bassa del forno. A questo punto aggiungiamo la mozzarella. In questo caso, io ho fatto due condimenti per una pizza. E quindi, su una parte, ho aggiunto zucchina alla poverella. sull'altra parte, melanzane alla scapece. Su una parte, capocollo, stick di capocollo. Sull'altra parte, salame piccante. E poi, ho ricoperto il tutto con pangrattato e aromatizzato all'aglio. Quindi, inforniamo a 180 gradi, per altri 15 minuti. Adesso andiamo in forno. Ed ecco la pizza appena sfornata. La tagliamo. Ed è pronta per essere servita. Devo dire la verità, era proprio buona. Eccola qui. Alta e soffice. Buonissima. Che dite? Vi piace? Buonissima.